Bentornati qua ragazzi sul mio canale YouTube, come state? Spero bene, ovviamente prima di iniziare questo gioco vi vado a ricordare che siamo in quasi 4% iscritti quindi mi raccomando se vi va iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su e attivate le notifiche per non perdere nessun video Detto questo ringrazio Stefanetto che mi ha passato tra virgolette questo gioco e detto questo facciamo Crea Sì, sono abbastanza sicuro di voler creare questa carriera quindi stationwash.se non so cosa sia come cosa tratta il gioco quindi speriamo che questa serie vi piace facciamo così, se arriviamo intorno ai, facciamo così, 10 like, porto il secondo episodio quindi, sesso uomo, mi dissocio, allora facciamo la divisa, la divisa, la divisa rossa facciamo i pantaloni rossi così, facciamo un po' così, facciamo un po' così, facciamo un po' così e vediamo se così va meglio I hope the traffic wasn't too nasty già meglio anyway, look at this anzi, ne abbassano un altro po' la signorina perché è un po' è un po' alta volumi e effetti, 0, 0, 0, 0, musica 0 facciamo un po' così tutto, vediamo ok, adesso non si sente proprio, ma meglio così buongiorno muovi le misure come si riparla come si riparla sì, cosa ho detto? apri scendi e shift maiuscola button maiuscola button maiuscola button maiuscola button maiuscola button maiuscola button ah, si può usare Kimpat? ok, sì, ma io ci volevo fare maiuscola button uno screenshot per i nostri amici Youtubers Youtubes allora, sali sul veicolo sì, per salire, eccolo qua il tastino io prendo solo un santo là mentre ti rendi piaciuto nel santo del driver si ok, cosa devo fare? cambia no, cos'è? L oddio, forse è meglio tastire adesso F1 ah, eccolo qua, ok trovato è un po' complicatuccio, eh cambia F1 ok ok ambientato eh devo chiudere il bottone ero chiuso, no? ho chiuso tutto posso partire? eh, pronto amio 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 hashtag amio allora, vediamo un po' se mi ricordo qualcosa eh, adesso mi da eh, adesso mi da oh ok, accendi due volte il motore aspetta eh, amio 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 accendi le luci, amio 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 posso partire? amio faggiorno, amio I think you may be a bit taller than the driver who delivered the bus don't forget to adjust your seat after you've started up the engine are you ready to bring public transport back to Seaside Valley? si ma lei parla un po' troppo signorina eh prena oh, before I forget I've got a little surprise for you just follow the route on the GPS si 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 seguo il GPS si si allora ma io volevo fare una copertina per i nostri amici di di Youtube ok eh, com'è che si ripassa visuale interna? pronto, amio ok segue il GPS si si ok ah seguiamo il GPS hashtag amio dovete passare? pronto? amio lo sto seguendo il GPS dottoressa dottoressa ho sbagliato questa roba amio ho sbagliato questa roba amio amio in Sunny Springs dove avevo lavorato abbiamo collaborato con la bus che ha migliorato la soddisfazione dei nostri residenti significativamente si si tutto molto caro caro amio amio però con il Gamepad è abbastanza carino da giocare spero che non sia troppo alto il volume si si pagaremo si 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 se vi piace questo gioco ragazzi mi raccomando lasciate un bel like per il continuo della serie perché ci tengo hai usato le frecce si si ho usato le frecce amio non dovevo soltare il semaforo ma non lì vabbè dettagli allora pronto amio ah eccolo con la visuale esterno con ah a cambio non puoi darti da Eurocrack qui eh comunque vi abbasso un attimino il volume da OBS perché vedo che è donatamente alto quindi ve lo abbasso un po' così ok dovrebbe andare molto meglio per voi per me no è verde amio 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 si sposti amio di qua no di là di qua no si di qua amio corriamo hai usato le frecce correttamente si si lo so amio frena ops non hai freni buoni questo amio scusa amio scusa amio 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 scusa non parte amio ok oggi sarà un tutto ashtag amio spero che la mia simpatia possa essere di vostro gradimento comunque ragazzi eh spero un tanto si 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 non si parla 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 al conducente signorina amio amio ok ok allora freccetta freccetta ho preso un po' larga hai usato le frecce correttamente yaa fermati la prossima fermata yaa se non prendo si si benvenuti che sono top number one in the shish cosa devo fare amio ah x ciao amio 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 ma io devo abbassare sti volumi perché sennò veramente raga divento sordo prima della fine del gameplay ok quindi datemi un attimo audio effetti bass facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così vediamo dialoghi mettiamo 6 vediamo se così va meglio perché mi stava ok dovrebbe andare molto meglio gli effetti dialoghi perché mi stavano già rompendo i cactus insomma non è che ci è cambiato tanto però si hanno si 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 io ho un dare molto bene devo fermarmi qui amio ah non devo fermarmi qui ok amio lo so che è uscito il 22 ragazzi però non me lo posso permetterà spero di portarmi anche con extraction vediamo se me lo danno gentilmente se no cipolla amio ok amio basta amio basta 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 si si certo certo signorina signorina si 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 tutto come vuole lei come vuole lei buongiorno 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 si ma sti dialoghi però hanno rotto tre quarti di cactus eh aspettate un attimo eh ragazzuoli che faccio dialoghi facciamo facciamo due va perchè hanno veramente rotto i cactus ok posso ok posso andare posso andare si posso andare scusi ah no niente si 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 una ruota ha colpito il marciapiede si beh ma vai agile cioè tutto normale signorina non si non si agiti anche lei su via scusi anche lei mi si agita cioè aria accesa eh che ha detto all'aria accesa si frenottiamo la prossima fermata si 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 fa troppo caldo eh si spogli signorina non ho non ho il tempo per eh mi dissocio nel dubbio hashtag io mi dissocio prendi freni 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 signor ausbus ok grazie camion eh ok siamo in germania a quanto pare si si lo so che ho usato le frecce ma abbiamo fretta ok accelerà sorpasso azzardato 130 si vola hashtag si vola hashtag si vola Lido ok dobbiamo frenare siamo arrivati? dov'è la fermata? pronto? signorina fermata? signora fermata? anche avanti ok si vai agile eh mi sono accorto che sei desodorita mi ricordo qualcuno ok cosa devo fare? abbassare porte poi devo scendere da autobus si perchè c'è eh signore scusi si si uno la volta scusi allora biglietto si no aspetti 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 ok allora biglietto si cosa vuole? eh biglietto ha perso già giornaliero quanti ne vuole? aspetta perchè ne devo abbassare ancora sti volumi madonna mi stanno spaccando i timpani ah mio mettiamo tutto sei mettiamo tutto quattro tutto quattro vai quattro 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 ok applica ok studente si va bene uno stampa quattro euro facciamo così ok ne ho dato in più probabilmente hai pagato troppo presto è dato troppo presto vabbè chi se ne frega posso andare? si c'è si buongiorno si come si apre la rampa con la G scusi la rampa abbassa rampa G forse devo essere sull'autobus si con la G devo ah non è come il 16 che devo cioè dovevo scendere per andare la rampa posso partire? si si vai agilissimo vai proprio si si non abbiamo tempo signorina perché già il gameplay vedo che dura parecchio sai si si e si si vai agil ho preso la buca pagaremo si si rotatonda ci penso io banzai chitniche wow 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 vedi eh come la visuale esterna ok non perdete la mia compagnia ragate di 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 oddio oddio e e e passa passa è che non abbiamo tempo vai non abbiamo tempo ha mufiato oddio oddio cosa sta eh pronto no pagaremo via via pronto aspetta che devo girare a mio ops e certo che non ha molta molto aderenza sto cane e bene comunque il bello della diretta ragazzi io direi che arriviamo parlando seriamente direi che arriviamo alla prossima fermata e ci fermiamo qui perchè vedo già che il tempo purtroppo vola via ragazzi quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino qui spero che questa serie e la mia simpatia vi possa essere di vostro gradimento e nulla ragazzi e veramente vi ringrazio si si è stato un 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 è stato un che saluto e si 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 come si scende qua vado via anch'io ciao ok ciao abbassa la rampa si 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 mo faccio su subito si 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 faccio subito com'è che si toglie qua ah scusi abbiamo fretta non abbiamo fretta pronto si 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 pronto un un passo però pronto ok no musica eh cosa è successo c'è 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 la musica vabbè non cammina amio vabbè ragazzi direi direi che ci fermiamo qua comunque vi ringrazio tutti per la visione noi detto questo ci becchiamo in un prossimo video e vi ringrazio per la visione grazie a tutti ragazzi e alla